Il momento rock, diciamo così, del gol dell'anno scorso e il tuffo dopo l'Inter in mezzo al pubblico. E quanto è piaciuto naturalmente? Buonasera a tutti, è stato bellissimo, il mio primo gol in maglia viola. Spero che quest'anno alziamo un quarto a due. Però insomma, l'importante è non farli fare, si dice, no? Dalla tua parte. Io prima sono dipensore, poi vediamo cosa si fa di una parte. Allora, difensore come si dice in serbo, diciamo? È difficile. Trovo, comunque. Si dice così. Va bene, grazie.